Abbiamo detto che l'utero non è recettivo in qualsiasi momento e l'endometrio richiede l'azione dell'ormone denominato progesterone il cui nome già indica la sua principale funzione progestazione. Questo ormone viene prodotto in modo naturale dall'ovaia e può essere somministrato mediante farmaci. Per creare una culla endometriale idonea è imprescindibile prepararlo in modo adeguato. Nei casi in cui la paziente ricevente ha una buona funzione ovarica le ovaie produrranno uno stimolo e una preparazione endometriale adeguata e non sarà necessario somministrare progesterone perché verrà prodotto dalle ovaie stesse, rendendo più comoda e tollerabile questa fase del trattamento.